Bruna ha creato un mondo fantastico, sognante, tremendo, visionario, anche realistico, immaginifico, un mondo dove Alice si muove, si agita, riflette, si dispera e gioisce. Bruna sta interpretando Alice adulta. O è Alice che svelerà l'identità di Bruna? Che cos'è per lei essere attrice, la recitazione e che cosa sarà per voi? Venite a partecipare ad uno spettacolo finalmente originale realizzato, noi sospettiamo, con originalità. Grazie a tutti.